ciao e bentornato nel mio canale se sono benvenuto e allora se sei nuovo iscriviti al canale clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui video che verranno caricati nel canale questo il mio secondo canale il mio primo canale tratta di cucito che si chiama cucito terapia dove insegno a cucire oggi parliamo di una un qualcosa che sta avvenendo nel web anche un qualcosa che sta secondo il mio modesto parere esagerando cioè l'uso dei filtri e non sto parlando di un filtro che magari ti leviga la pelle che ti toglie un po le occhiaie è un po di rughe quello ci può anche stare ma quei tipi tipologie di filtri per esempio su una importante piattaforma è da poco uscito un filtro che stanno stiamo un po provando un po tutti quelli che siamo in questa piattaforma questo free filtro fa sì che i connotati del nostro viso e quindi i tratti nel nostro viso ci cambiano completamente dopo la forma del viso per esempio sono filtri che ti fanno il naso sembri più fine ti fanno gli occhi più grandi oppure ti sfilano il viso quindi il filo dal viso un po fruttello magari non sì che il viso sia più allungato o più magro un incarnato da bambola il make up che io non sopporto il make up non mi piace questo uso del make up perché lo trovo veramente molto finto sarà che a me piace molto truccarmi e non ho neanche bisogno di mettere un filtro di trucco perché questi filtri stanno spopolando su internet perché c'è la ricerca della perfezione della perfezione fisica queste modifiche possono creare delle insidie nella nostra personalità e quindi nella nostra psiche perché questi filtri cambiano i connotati del viso e quindi noi vedendoci con quel viso con quella faccia che comunque è modificata alla fine tendiamo a non volerci più accontentare se vogliamo del nostro vero viso quello che noi abbiamo cosa crea il filtro crea un'immagine nostra migliore e come potremmo essere se fossimo più giovani fossimo più magri avessimo gli occhi più grandi avessimo le labbra più carnose quindi tutto questo crea una discrepanza tra il reale 15 tra la realtà e i difetti che poi noi tutti abbiamo perché tutti noi abbiamo difetti qui una discrepanza tra l'immagine reale e l'immagine fittizia quindi virtuale e questo è un campanellino d'allarme che dovrebbe sorgere soprattutto ai genitori quindi io parlo ai genitori soprattutto che dovrebbero stare particolarmente attenti a questi nuovi social perché chi è particolarmente colpito potrebbe avere delle ripercussioni sulla propria personalità sulla propria psiche sono gli adolescenti perché gli adolescenti e adolescenti è un per l'adolescenza è un periodo dove noi non abbiamo ancora formato la nostra personalità è una fase di passaggio verso la l'età adulta quindi molto delicata e a volte anche turbolenta dove l'immagine di sé viene particolarmente messa in dubbio chi di noi non si è sentito brutto oppure che non ha accettato determinate caratteristiche del nostro corpo che poi magari crescendo abbiamo paradossalmente crescendo magari abbiamo apprezzato quindi tutto quello che avviene nel periodo dell'adolescenza ha un peso maggiore rispetto a persone come me e come noi che siamo ovviamente grandi perché abbiamo un sé ben formato e abbiamo una nostra personalità si spera più solida rispetto ad un adolescente e sappiamo benissimo che chi più usa i social ormai stiamo usando un po tutti ma chi più usa i social sono proprio gli adolescenti ma cosa possiamo fare noi adulti possiamo fare questo oppure consigliarla ai nostri figli se eventualmente abbiamo dei figli adolescenti o comunque giovani adulti eliminare i filtri dalle nostre app ecco il mio consiglio è quello di eliminarli in modo tale da non essere più tentati dall utilizzarli il secondo consiglio è smettere di seguire personaggi che utilizzano in maniera spropositata questi filtri e purtroppo ce ne sono tanti soprattutto chi lavora nel web quindi parliamo degli influencer delle persone che lavorano con il proprio fisico con il proprio viso e che quindi devono essere impeccabili perché sennò non lavorano perché chiaramente se tu hai dei difetti l'azienda non ti manda quel determinato prodotto o non ti paga per quel determinato servizio e noi che siamo persone normali il guardare questi personaggi che apparentemente sembrano delle persone perfette persone che non hanno un minimo di ruga il viso completamente liscio le labbra fantastiche gli occhi da gatto in realtà non sono così il seguire queste persone fa male perché noi ci confrontiamo con gli altri una cosa normale che tutti noi facciamo il confronto con l'altro sia dal punto di vista fisico ovviamente anche dal punto di vista anche di altre caratteristiche ovviamente però stiamo parlando della fisicità noi ci mettiamo a paragone con queste finte perfezioni perché sono finte perfezioni la finta perfezione finta fasulla falsa e ci sentiamo in difetto io ho la cellulite guarda quell'attrice con le gambe lisce lisce le gambe fantastiche queste cose sono sempre sempre avvenute perché prima c'era photoshop perché nei giornali uscivano queste foto con i visi perfetti è chiaro che un'attrice per quanto bella possa essere una modella anche lei il brufolino la rughetta so il piccolo difettuccio che chiaramente se sta pubblicizzando un profumo un gioiello è un qualche altra cosa è chiaro deve essere al top quindi sono tutte ritoccate le foto anche quelle che vediamo nei servizi fotografici e le foto che non vediamo abitualmente anche le foto di pubblicità di famosi stilisti sono tutte ritoccate non c'è niente di vero quindi eliminare queste persone smettere di seguire queste persone fanno sì che noi possiamo a questo punto vivere meglio ci aiutano a vivere meglio e impediscono di sentirci a quel punto inadeguati purtroppo questa una società che più di tante altre è una società basata sulla bellezza sulla bellezza fisica non interiore se non sei bello quasi se in difetto canini canoni però di bellezza irraggiungibili perché se io sono una persona faccio il mio esempio io sono una persona che più di tanto non riesco a non potrei essere più di tanto madre perché ho un fisico più che altro da sportiva quindi il mio fisico non è un fisico longilineo è un fisico che è robusto se mangia troppi grassi se mangia troppi dolci tendo a ingrassare quindi io non potrei mai avere il fisico di una modella o influencer molto magra però io vedo che lei ha tanti like tanti apprezzamenti le aziende la chiamano per fare tanta pubblicità super pagata super copiata anche vogliamo quindi una classica influenza anche noi vorremmo essere come lei ovviamente io sto parlando in generale ovviamente non tutti quelli che vedranno questo video la penseranno in questo modo io mi sto incentrando soprattutto sulle persone più fragili come gli adolescenti come le persone che non hanno formato un se solido quindi una personalità ben definita e poi persone che hanno puntato tutto sulla bellezza e non sulla personalità sulla simpatia sulla cultura l'inseguire questi canoni di bellezza raggiungibili fanno sì che possiamo incappare in una situazione frustrante e può essere anche molto dannosa per quanto riguarda la nostra autostima la stima di quindi di noi stessi la sottostima la nostra personalità e qui subentra quello che viene chiamato il dismorfismo corporeo cerco di spiegarlo nella maniera più semplice possibile è un disturbo mentale in cui le persone soffrono e stanno male per vedere delle difetti imperfezioni fisiche che la persona vede in se stessa ma che addirittura agli altri nemmeno se ne accorgono quindi per esempio io posso avere un dente per fare un esempio un pochettino all'indietro e io soffro di questo dente all'indietro non perfettamente dritto ma le persone nemmeno se ne accorgono può anche non interessare ecco questo dente gli altri che ci guardano magari reputano queste imperfezioni come inesistenti addirittura o trascurabili non importanti quindi l'utilizzo quindi dei filtri fa sì che il mia la mia immagine mi piaccia con il filtro piuttosto che senza filtro quindi cosa può succedere succede che io adolescente io che una personalità fragile io che non ho una personalità bella forte bella formata vado dal chirurgo estetico perché tante persone proprio in questo periodo si stanno rivolgendo particolarmente a chirurghi estetici per il fatto che vogliono assomigliare o al personaggio che ti piace particolarmente che il tuo personaggio preferito oppure al filtro cioè la tua immagine che tu vedi attraverso quel filtro quindi se io sto utilizzando un filtro per fare un esempio con delle labbra carnose vado dal medico estetico o dal medico chirurgo e gli chiedo per favore fammi le labbra guai a quelle che vedo nel filtro attraverso il filtro questo ritocco quindi che crea un'illusione l'illusione di sentirsi più sicuri di noi stessi e quindi abbattendo l'insicurezza e tutte e tutti i problemi che ne derivano è una sorta di soluzione magica anche immediata la problematica sta sfuggendo di mano l'autostima non si misura in centimetri in chili il numero di rughe macchia per la nella pelle denti storti lo stesso per esempio per quanto riguarda il naso una persona che respira male perché ha il setto nasale deviato comunque con problematiche che si rifà il naso certo magari sarà più bella con il naso rifatto ma avrà anche una a quel punto una motivazione anche più valida che è il respirare meglio ovviamente io non voglio assolutamente generalizzare e non voglio che passi il concetto che andare dal chirurgo plastico o rifarsi comunque sia sbagliato perché ci si ci fa sentire meglio tanto di guadagnato ma con la consapevolezza che comunque è un qualcosa che noi abbiamo e che abbiamo cambiato di noi stessi per un determinato motivo e non per uscire dalla realtà per evitare la realtà in questo caso io consiglio di andare in terapia la terapia non ti cambierà la situazione io lo dico sempre questo letta la terapia psicologica non serve per cambiare la tua situazione la terapia psicologica serve per cambiare la modalità con cui tu guardi alla la situazione giudicare e guardare la vita e tutto quello che ti gira intorno in maniera più costruttiva e che possa creare benessere si va in terapia per il trovare il più possibile il proprio benessere interiore riuscire a relazionarsi in maniera più positiva con se stessi oggi stiamo parlando dell'aspetto fisico può essere anche un aspetto di come ci approcciamo ai problemi alla vita alle problematiche quindi della vita e quindi il raggiungere un rapporto sano con se stessi questo è l'obiettivo della terapia altro obiettivo della terapia la consapevolezza si inizia sempre con la consapevolezza la consapevolezza io dico sempre che è il primo stadio verso la guarigione perché l'essere consapevoli che quel filtro ti sta facendo male che ti sta creando dei problemi o che seguire quella persona su internet ti mette malumore ti fa sentire inadeguata inadatta è già un passo in avanti anche questo serve la terapia per raggiungere la consapevolezza raggiunta la consapevolezza si può lavorare su questa per il miglioramento e consapevoli anche di un altro fatto molto importante perché se io uso questi filtri in maniera esagerata che ti cambiano i connotati ripeto proprio che hai un viso completamente diverso questo che cosa crea che è un problema non solo per te stesso ma anche per gli altri perché comunque anche gli altri ti guardano e dicono questa persona è bellissima beata vorrei essere come lei c'è un filtro dietro non è reale quindi tutto questo può danneggiare la nostra e l'altrui autostima io spero questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme sui filtri e che comunque un qualcosa che oggigiorno fa secondo il mio parere esagerando io spero che vi sia stato utile e allora regalami un bel like condividi il video nei tuoi social in modo tale da far crescere il canale mio canale di psicologia in modo tale che porterò sempre più contenuti e lasciami un bel commentino qua sotto per farmi sapere che cosa ne pensi se tu usi i filtri che cosa ne pensi sul discorso che ti ho fatto mi farebbe tanto piacere sapere la tua opinione personale io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video